bene allora adesso la mia prima intervista ti ho messo 20 minuti per partire vabbè non ti dico io i primi video che facevo tre anni fa ecco lo sapevo cosa dire è normale tutti vogliono andare in paradiso guarda che sistemo l'audio invece mi viene sempre in mente troppo mi inserisco un attimo scusa perché qua facciamo le cose sincere grazie